Il Signore ci libera da ogni paura e da ogni catena, affinché possiamo essere veramente liberi. Vescovi, non cercate appoggi da chi ha il potere e non lasciatevi ingannare dall'orgoglio che cerca gratificazioni e riconoscimenti. Il monito arriva direttamente da Papa Francesco, che ieri, durante la messa celebrata nella Basilica Vaticana, in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, ha imposto il pallio a 24 nuovi arcivescovi metropoliti. Per il Santo Padre, proprio la testimonianza dell'Apostolo Pietro ci ricorda che il nostro vero rifugio è la fiducia in Dio e sta lontana ogni paura e ci rende liberi da ogni schiavitù e da ogni tentazione mondana. In effetti Pietro sente ancora bruciare dentro di sé la ferita di quella delusione data al suo Signore nella notte del tradimento, ma in quel momento Pietro non si affida a se stesso e alle proprie forze, ma a Gesù e alla sua misericordia. Pietro, ha sottolineato il Papa, ha sperimentato che la fedeltà di Dio è più grande delle nostre infedeltà e più forte dei nostri rinnegamenti. Si rende conto che la fedeltà del Signore allontana le nostre paure e supera ogni umana immaginazione. Ecco che Pietro ci mostra la strada, ossia fidarsi di Lui che conosce tutto di noi, confidando non sulla nostra capacità di essere gli fedeli, quanto sulla sua incrollabile fedeltà a noi. Gesù infatti non ci abbandona mai perché non può rinnegare se stesso. E ancora, la fedeltà che Dio incessantemente conferma anche a noi pastori, al di là dei nostri meriti, aggiunge il Papa, è la fonte della nostra fiducia e della nostra pace. Di Paolo viene raccontato per tre volte l'episodio della chiamata sulla via di Damasco, che segna la svolta della sua vita. Prima era un acerrimo nemico della Chiesa, dopo mette tutta la sua esistenza a servizio del Vangelo. Per il Santo Padre, come per Paolo, anche per noi l'incontro con la parola di Cristo è in grado di trasformare completamente la nostra vita. Non è possibile restare bloccati sulle proprie abitudini. Essa ci spinge a vincere l'egoismo che abbiamo nel cuore per seguire decisamente quel Maestro che ha dato la vita per i suoi amici. Ecco allora che la festa dei Santi Pietro e Paolo ci pone di fronte all'opera della misericordia di Dio nel cuore di due uomini che erano grandi peccatori. Infine, il Papa si è unito ai Vescovi dell'Iraq per chiedere il dialogo quale unica via per raggiungere la pace. Poi, in serata, parlando nei Giardini Vaticani con un gruppo di giovani della Diocesi in ricerca vocazionale, a proposito dell'aspetto definitivo, il Papa ha sottolineato «Credo che uno che ha più sicura la sua strada definitiva è proprio il Papa. Perché? Il Papa dove finirà?» E allora così risponde, lì, in quella tomba.